Ma loro sono stati bravi soprattutto nel palleggio, noi abbiamo provato i primi dieci minuti a andare a prenderli alti poi vedevamo che magari non riuscivamo, ci siamo inconsciamente un po' abbassati e forse dovevamo continuare a andare a prenderli alti però penso che sia stata una partita equilibrata e che si sono decisi dagli episodi perché potevamo pareggiarla poi abbiamo preso il 2-0 e lì è finita la partita però penso sia stata una partita equilibrata Ma sì, c'era una disponibilità, non c'è stato problema perché tanto ce l'avevo già fatto quel ruolo quindi non c'era problema Speravo di rientrare e riuscire a aiutare i compagni a vincere, purtroppo non ci siamo riusciti però ci sono altre partite, il campionato è ancora lungo quindi non ci dobbiamo assolutamente abbattere ma ci deve servire di lezione questa partita per crescere e migliorarci